Mentre il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente si dice nauseato e la senatrice Stefania Pezzopane chiede di istituire un tavolo sulla legalità, la nuova bufera giudiziaria sugli affari tra amministratori comunali e imprese della ricostruzione genera un altro scossone, forte, a danno di una città che non ne può più di un magna magna spudorato e di un giro di mazzette di cui, oltre alle inchieste finite alla ribalta delle cronache, tutti sanno e tutti parlano. L'inchiesta del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila che ha portato agli arresti dell'ex vice sindaco e assessore all'urbanistica Roberto Riga e di Massimo Mancini, imprenditore d'Ile, vice presidente dell'Aquila Calcio e poi Paolo Aielli, ex capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione, indagato a piede libero per abuso d'ufficio in concorso con l'allora dirigente del settore ricostruzione privata del comune dell'Aquila Vittorio Fabrizi, getta un velo d'ombra sull'intera gestione dei fondi del posto terremoto all'Aquila da parte di tutti gli antipubblici che a vario titolo avrebbero dovuto vigilare più e meglio anche in nome delle vittime. Palazzo Fibbioni trema ancora sull'onda d'urto del terremoto giudiziario, sulla ricostruzione privata, la fetta più ricca del post-sisma perché prevede la quota maggiore dei finanziamenti statali e la più ambita a causa delle modalità di affidamento diretto alle imprese di commesse spesso milionarie. Al centro dell'inchiesta l'appalto ultramilionario, 28 milioni di euro, per la ristrutturazione dell'opera salesiana Don Bosco. Il punto di partenza dell'inchiesta, come evidenziato dalle indagini, è stato proprio l'intervento per realizzare una nuova sala riunioni per i giovani nell'oratorio di Via Don Bosco. Al centro dell'inchiesta un giro di mazzette che nel caso di Mancini si sarebbe evidenziata con un affitto gonfiato di un appartamento di proprietà della moglie di Riga. Per corruzione sono indagati anche due imprenditori locali che operano nel settore edile, Simone Lorenzini e Sandro Martini, per i quali è stata disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio d'impresa per il periodo di un mese. La procura dell'Aquila avrebbe scovato auto di lusso, prese da riga, attraverso un assegno considerato pure questo corruttivo di un altro imprenditore che aveva numerose commesse. Infine vengono contestati altri versamenti definiti prestiti dagli indagati ma mai restituiti. La ricostruzione privata merita grande attenzione perché, caratterizzata da una carenza normativa e perché è in questa che si concentra gran parte del flusso economico. Queste le parole del procuratore Cardella, mentre per il capo della polizia tributaria della Guardia di Finanza, Sergio Aloia, l'inchiesta dimostra che il settore della ricostruzione privata è particolarmente esposto a fenomeni di malversazioni, episodi corruttivi e di frode, quindi la guardia deve essere sempre molto alta.